Sono 654 i migranti sbarcati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. L'ultimo arrivo di stranieri si è registrato nelle scorse ore al Moro Favaloro della più grande delle isole Pelagie. Si trattava di un barcone di 12 metri con a bordo 128 persone, tutte di nazionalità egiziana e bengalese. Prima le motovedette della Guardia di Finanza avevano intercettato altri due barchini con un totale di 26 tunisini a bordo, tra cui c'erano anche tre donne e due minorenni. Al momento nella struttura di accoglienza di Lampedusa sono ospitate 1734 persone, quando la capienza massima è di 350 posti.